Torino, viene battuta, è finita la partita, è finita la partita, è finita la partita, ha pareggiato il Torino, ha segnato Meggiorino, ha pareggiato il Torino, con due gol di Meggiorino, ha pareggiato il Torino, Biasin, 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 posso solo dare la mia solidarietà a Biasin? Io Suma lo capisco, perché? Ma i fratelli dirige lì vicino, sono della Juve, sono i cugini, mentre però vedete che Biasin, che è un uomo come dire anche di pensiero, sorride eccetera, nessuno riesce a far rianimare Policastro, che è un uomo invece di umoralità, non riesce a sorridere, Policastro è la fotografia dell'Inter di questa sera, la delusione, la perplessità, l'amarezza, che rischia anche di trasformarsi poi in protesta.